Quinta corsa premio Climor, un miglio per i quattro anni interpretati dai gentlemen, i ritiri tutti in prima fila di Romana Rod, Raissa Regale e Riana Della Buzia. Restano in quattro a rete che sono Ricco Real, Rachel Goh, Razo Paul, Ray Zamuro, cinque invece i partenti in seconda fila che sono Rolex UR, Remox, Red Hot Run, Rolling Stones e Regina OS. Parte con cautela Rolling Stones, di galoppo Rolex UR prima dello stacco, emerge Ray Zamuro nei confronti di Rachel Goh, dalla seconda fila veloce in via come sempre Regina OS, al cui interno però c'è Razo Paul. Il lancio di Ray Zamuro in quattordice e uno per comandare su Rachel Goh, Razo Paul e Regina S in tersiglia addirittura. Poi dalla seconda fila veloce a inserirsi con il nove Remox che precede Ricco Real, Red Hot Run, Rolling Stones. Comanda sempre Ray Zamuro che completa il mezzo giro iniziale in 37-3, seguito da Rachel Goh, Remox, sbaglia ora Razo Paul, mentre i 600 iniziali del leader sono a buon ritmo in 44-1. Ray Zamuro a comandare su Rachel Goh, Remox, Regina OS che è rimasta scoperta all'esterno, Ricco Real, Red Hot Run e Rolling Stones. Metà gara nel frattempo in 59-6, continua a imporre andatura sostenuta a Ray Zamuro nei confronti di Rachel Goh, Remox, Ricco Real, Regina OS che perde battute all'esterno, sta calando, poi Red Hot Run mentre sbaglia Rolling Stones. 1-15-3 nel frattempo il chilometro iniziale di Ray Zamuro che comanda ancora con sicurezza su Rachel Goh, Remox, Ricco Real e Red Hot Run. Cavalli che stanno per giungere al paletto dei primi 1200 metri in 1.31, si viaggia ancora sul piede dell'1.15 appena abbondante. Sposta dalla terza posizione, Remox che va al salchi di Rachel Goh mentre Ray Zamuro si mantiene in chiara evidenza quando siamo all'inizio della retta d'arrivo. Allarga a Rachel Goh che all'esterno, Remox per l'interno di Ricco Real, poi Red Hot Run. Ray Zamuro in chiarissima evidenza quando mancano ormai 100 metri al traguardo. Lo sprint a centropista di Remox e quello di Ricco Real lungo la corda finisce forte anche Red Hot Run. Ray Zamuro che vince da lontano mentre per il posto d'onore fermino su due linee. Ricco Real alla corda, Red Hot Run all'esterno e Remox fra i due che forse è un po' calato nelle battute conclusive e potrebbe essere stato relegato al quarto posto 2-1-3 sul mio cronometro media di 1.15.8 per il vincitore netto Ray Zamuro Giovanni De Simone favorito da un capo all'altro con grande sicurezza 1.15.8 la media al chilometro per il numero 5 mentre rivediamo gli ultimi metri di gara degli altri concorrenti per cercare di stabilire a chi sono andate le migliori piazze dietro al vincitore Ray Zamuro c'è un arrivo molto combattuto fra Ricco Real numero 1 alla corda Red Hot Run all'argo Remox tra i due difficile stabilire tra questi tre chi abbia avuto la meglio è finito molto forte all'argo Red Hot Run con il numero 10 comunque restiamo in attesa del verdetto del giudice d'arrivo per quanto riguarda l'assegnazione delle piazze dietro al vincitore Grazie a tutti